Ho visto, citando il mio nome con accanto la scritta audiolibri, ho visto che ci sono tanti cloni, insomma, mi sembra che si chiamino così, di questo canale. Cioè tanti canali che riproducono il mio canale, in cui ci sono i miei video integralmente, che compaiono quasi in tempo reale, non faccio tempo a pubblicarli, che sono già pubblicati in numerosi altri canali. Canali, non so, di vario tipo, con scritte strane, no, non lo so, non mi so spiegare perché non sono abbastanza esperto della navigazione in rete e di tutto quello che succede. Questo mi fa capire che un po', insomma, il mio lavoro viene abbastanza disperso, insomma, quello che, quello al quale ci terrei è che il materiale che metto a disposizione di tutti sia usato da questo canale, anche perché poi diventa uno strumento di interazione, di comunicazione, insomma, no. Se così non fosse smetterò questa attività, insomma. Tempo allora di capire questo fenomeno. Sappiate che comunque questo, dal quale vi sto parlando e che ha sotto il mio nome, è il mio canale originale, insomma. Gli altri non sono i miei canali, anche se trovate i miei video, insomma. A questo canale vi invito ad iscrivervi. Lo scopo poi di quello che faccio è anche poi di interagire con voi, insomma. Questo deve essere il luogo in cui ci troviamo, insomma, in cui possiamo interagire, in cui quello che faccio ha un senso. Allora, sappiate che l'attività continua, però i prossimi video usciranno in modalità non in elenco. Modalità non in elenco significa che non verranno individuati e quindi riportati nei motori di ricerca. Ciononostante, verranno linkati e li troverete, ripeto, nella playlist novità di questo canale. Il resto, tutto come prima, insomma, resta esattamente come prima. Magari non è niente, insomma, ma volevo un attimo capire come mai tanti cloni, insomma. Mi sento un po', mi sento un po', come dire, frammentato. Ah, un'ultima cosa che mi dimenticavo di dire. Nella home, sempre nel mio canale, Walter Zanardi, c'è una voce accanto a playlist che è Community. Questa voce è possibile usarla, è uno strumento, diciamo, di comunicazione tra noi. Cioè, chi vuole lasciare dei messaggi, chi vuole dire delle cose, fare delle proposte al canale, suggerire delle cose, proporsi anche per qualcosa che si può fare insieme. Insomma, consigli, suggerimenti, iniziative possibili, ecco, lì ha uno strumento in cui scrivere e dare il suo contributo, insomma, contributo ideale, insomma. Eh, quindi, contributo di idee, insomma, di... Tenete presente che c'è questo luogo, Community, andando sempre nella home del canale, così lì avete le playlist e avete anche questo strumento dove è possibile interagire, scrivere e parlarsi. Ricordatevi, Community. Un saluto.